Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io la Vispa Teresa. Oggi vi faccio la Nutella. Andiamo a vedere gli ingredienti e come io so fare. Allora, per fare la Nutella a modo mio ci vogliono 30 g di burro, 80 g di zucchero a velo, 60 g di noccioline già tritate e 100 g di cioccolato fondente. Andiamo a vedere come si fa. Eccoci qua, io ho fatto sciogliere già la tavoletta di cioccolato con i 30 g di burro. Adesso l'ho fatta sciogliere a bagnomaria. La trasferisco in questa terina. Dovete aggiungere anche 50 ml di latte, proprio vedete un gocciolino così. Non l'avevo detto prima ma ve lo dico adesso, tanto non cambia niente. Perché comunque siamo su un video. Poi mescoliamo bene. E aggiungiamo piano piano le nostre nocciole ritritate. Ecco, e aggiungiamo il nostro zucchero a velo. E mescoliamo. Eccoci qua. Noi mescoliamo bene, bene, bene. E la nostra nutella, a modo mio, è pronta. Vi ricordo che mi trovate sempre su YouTube. Cliccate l'ispa Teresa, cliccate la campanella che vi terrò sempre aggiornati. Io adesso vi saluto, vi mando un bacio. Alla prossima, ciao! 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 ! Ciao! Ciao!